Qui per l'unboxing e la recensione di questo caricabatterie andiamo subito a vederla assieme Quick Charger PD a 9V, benissimo, vediamolo Può caricare batterie nickel metal, nickel cadmio di tipo AA, AAA e 4A, benissimo 3.2V per le Felipo e ovviamente batteria di Ioniridio sia IMR, INR e ICR Quindi comunque siamo di fronte a un ottimo caricatore per ciò che concerne le specifiche per al momento Andiamo subito a vederlo, packaging esterno molto gradevole, tutto in nero con una rappresentazione grafica del prodotto Dopodiché FCC, UKCA e ROS le certificazioni Bene, apriamolo Abbiamo libretto di istruzioni, multi language, comprensivo d'italiano Il prodotto avvolto nella sua sacca da trasporto, non me l'aspettavo, su di un caricatore Ed ecco qui il caricatore Caricatore di grandi dimensioni, come potete vedere, con il suo cavo di ricarica Sia doppio USB Type-C che USB A Type-C Bene, vediamo come i materiali non siano eccelsi per ciò che concerne la qualità delle plastiche Ma comunque di buona qualità Bene Qui abbiamo i tasti per la gestione Schermo di grandi dimensioni Bene Adesso, finito questo unboxing, andrò subito a testare il prodotto Subito a vedere il prodotto e le sue funzionalità E ci vedremo nella seconda parte del video Innanzitutto vi dico già che Morbide è il giusto, ma non troppo anche le slitte Bene Guardate, così i gommini inferiori di prima a chitto sembrerebbe davvero un buon prodotto Bene, procediamo col test Qui, seconda parte del video, che è stato a fondo il prodotto Vi dirò Per me è un prodotto alle 5 stelle Vi spiego subito A parte il discorso che qualsiasi batteria ci si metta Esso la riesce a gestire tranquillamente e a autoriconoscere Sulle Felipo c'è un attimo che dobbiamo andare a scegliere bene il modello Ma lo facciamo tramite il tasto È diviso in 4 slot C1, C2, C3 e C4 Il C4 è lo slot che preferisco Perché solo in quello vi è la possibilità del test Di testare la reale capacità della batteria Quindi viene portata a massima carica Scaricata del tutto Dopodiché ricaricata E quindi ci dà contezza di quanti mAh effettivi questa batteria possa avere Quindi non ci baseremo più sugli mAh nominali Ma potremo averne contezza Carica velocemente In più possiamo scegliere il taglio dei mAh di ricarica 0,25, 0,50, 1A E così via a salire Quindi ci dà anche la possibilità di scegliere tra una carica lenta ed una carica veloce In base alla tipologia di batteria che abbiamo Se è vecchia, se è nuova, se è peggiori cariche veloci o meno Riesce a riconoscere anche l'input Se è quick charger, PD o d'altro Che andiamo a inserire Che dire, un buon caricatore Non ho evidenziato difetti L'unica cosa che avrei preferito delle plastiche un pochino differenti Ma a livello funzionale non si può dire niente Carica, carica bene Ci dà contezza di tantissimi parametri Presente anche la sacchetta di trasporto E il rapporto qualità prezzo a mio avviso è ottimo Spero di esservi stato utile Una raccomandazione però Su batterie agli ioni di litio di grandi amperaggi Tende un pochino a scaldare Quindi la parte laterale dove prende arvi e altro Cerchiamo di nonostruire La lasciamola sempre così su di un piano Seconda accortezza da avere sempre con le batterie tipo litio E di controllarle Perché le batterie, se vecchie, possono danneggiarsi E prendere fuoco Quindi tenere sempre sotto occhio il caricatore 5 stelle Quindi tenere sempre con le batterie Quindi tenere sempre con le batterie